ciao belli bentornati nel mio canale oggi invece vi porto con me a zara sono andata per cercare dei pantaloni arancioni che avete visto nel video precedente ma non l'ho trovati quindi ho approfittato e ho guardato un po di cosette molto carine tipo questo vestito qua da ballo stupendo anche sembra che mi fa vedere la pancia però le luci non aiutano questo vestito costa 25 euro invece questo qua visto da fuori sembra carino indossato non mi piace per niente anche se abbastanza economico ma più un vestito da stare in casa non mi piace come come mi sta però è una è un'opzione come vestito un po comodo direi invece questo qua sembra la parte dei glutei l'ho girato due volte visto anche questo da fuori però indossato e tutt'altra cosa invece mi sono innamorata follemente di questo vestito stupendo a me piacciono tantissimo di fantasia fiori tra l'altro costa 16 euro e 99 me l'hanno fatto a pagare 17 99 perché il ticket mi è arrivato nel telefono infatti dovrei tornare indietro per farmi restituire un euro è stupendo 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 meraviglioso mi piace tantissimo mi sta da dio mi sento una principessa con questo vestito stupendo stupendo cosa ne pensate voi a me piace tantissimo invece questo vestito qua è meraviglioso davvero molto bello molto elegante non deve avere un filo di grassa perché sennò veramente traspare tutto l'unica pecca che sono andata a chiedere è l'ultimo vestito che è rimasto ma aveva degli difettini costava 19 euro 99 bellissimi questi pantaloni l'unica cosa che io non riesco mai a trovare il pantalone la mia taglia 13 euro bellissimo mi sta un po largo nella cintura volendo lo posso far stringere ho provato questo qua nero ma io tanti come questo qua mi piaceva perché costava 12 euro anche questo e quindi provarlo ovviamente era molto leggero il tessuto è molto estivo questo invece di lino molto bello molto comodo molto leggero molto estivo proprio bello anche il colore mi piace mi sono pentita di non averlo preso perché ho preso un altro pantalone fini video fatemi sapere nei commenti e che pantaloni per voi ho preso c'è questa fantasia qua molto molto bella molto leggera fa anche un bel fondo schiena molto carino molto costa 19 euro e 99 io ne ho presi due fantasie per vedere veramente molto molto carino l'unica pecca che non ha la cinturina o la zip o il bottone per aprirlo e dovresti indossarlo a forse se sei un po sudato non riesci a tirarlo su mi piace tantissimo questa fantasia qua invece c'è questa gonna fiore che anche questa mi piace tantissimo è l'unica gonna leggera a fiore che ho trovato qua a zara davvero molto molto carina anche questa e la trovo veramente bellissima cosa ne pensate voi fatemelo sapere nei commenti se vi piacciono questi tipi di video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e poi c'era questa diciamo camicia che assomiglia abbastanza alla gonna l'ho vista ho detto la provo per vedere come sta e non mi fa impazzire perché comunque acqua fa troppo caldo per usare qualcosa con maniche lunghe invece ho trovato queste pantaloni qualche ne stanno parlando tantissimo di zara sono più invernali e però sono belli perché chiudono abbastanza la pancia e di linea nuova stanza la figura molto carini l'unica cosa che sono troppo corti per il mio gusto e però sono davvero molto carini ho trovato solo questo colore il verde non so se online riuscita a trovare io sono venuta per prendere il pantalone arancione non ho trovato mi ha detto che è rimasto uno per un altro un altro negozio infatti il lunedì vado a cercare se riesco a trovarlo questa gonna stupendo il colore meraviglioso peccato che sono andata a chiedere era l'ultima è una s visto s o m non mi ricordo comunque non mi stava io bisogno no è una s e mi serve l'xs però peccato questa qua la gonna che ho provato l'altra volta costa 17 euro e 99 ci sono tantissimi articoli anche questa qua era scontata però non c'era scritto il prezzo questo top era 5 99 questi pantaloni erano 9 99 17 99 comunque fine video o nei commenti fine video no o nei commenti e se volete lasciarmi una richiesta se volete che vado a guardare altro negozio se vi interessa articolo particolare se volete vedere delle cose un po particolare perché comunque io vado a valencia al centro e la c'è di tutto c'è zara c'è mango c'è la km c'è bershka c'è tutto 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 però a me sapendo che mi piacciono più gli articoli della zara perché a volte si trovano delle cose davvero molto molto belli molto carine anche dei prezzi abbastanza interessanti quindi vengo se spesso qua nei negozi qua valencia di zara ci ne sono tantissimi ma proprio tanti questa qua una tuta intera invece questo vestito qua mi ha fatto troppo ridere per ridere perché è rigidissimo io non so come si fa a indossarlo nemmeno come camminare questo mi piace tantissimo il colore molto bello molto carino anche questo vestito qua 17 99 belli se vi piace questo video se vi piace il mio canale mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità un bacione a tutti da parte mia cali e gatto questa camicia mi fa impazzire tornerò a prenderla